Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Infipili per lavori 3 km di coda tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze e 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è entrata chiusa ad Empoli Est in direzione Firenze. 3 km di coda per un incidente al km 73-400 tra Navacchio e Pisa Aeroporto in direzione Mare. 2 km di coda per un incidente ora risolto tra Firenze-Scandice e Ginestra Fiorentina verso Livorno. In A11 verso Firenze e coda a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1. In A1 verso Bologna per lavori fino alle 15 chiuso il tratto compreso tra Albivio con la variante di Valico-Baccheraia e Ronco-Vilaccio, contemporaneamente chiusa l'uscita di Ronco-Vilaccio provenendo da Roma. Sul raccordo Siena-Vettolle rallentamenti tra Casetta-Monteaperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano-Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!